L'associazione di volontariato Hauser di Fano insieme all'Anteas di Falconara partiranno il 12 maggio per raggiungere la zona nord della Romania a 50 chilometri dal confine con l'Ucraina per portare dei viveri e medicinali a favore della popolazione coinvolta nella guerra. Per questo l'Hauser invita i cittadini a fare la propria parte portando beni di prima necessità nella loro sede di San Lazzaro di Fano a fianco della Sala Cubo. Dobbiamo cercare di raccogliere un po' di viveri soprattutto viveri a lunga conservazione dove ci sono delle persone che noi conosciamo che ci danno una mano per organizzare questo viaggio. Adesso chiediamo ai cittadini di Fano se ci danno una mano per la raccolta di due tre quintali al massimo di viveri a lunga conservazione. Quello che ci serve e avremo bisogno della raccolta di un po' di denaro perché questa spedizione abbiamo fatto un calcolo che ci verrà a costare circa 2000 euro. Inoltre questo viaggio permetterà di ospitare sette profughi in Italia che saranno trasferiti nei vari punti di accoglienza della prefettura di Pesare Orbino. La partenza è prevista per il 12 maggio e il ritorno o il 15 o il 16 di maggio quindi il viaggio durerà 4-5 giorni. Spero che i cittadini di Fano ci diano una mano che ci sia una buona partecipazione e noi siamo contenti di fare questo perché purtroppo in questo periodo di guerra è necessario aiutare chi ha bisogno.